Una nuova linea è stata tracciata. La celebre carena Carnevali ha solcato le acque con il nuovo 160. Prodotto interamente nel cantiere di Marina di Ravenna, erede per affinità al Carnevali 155, il nuovo 160 è un vero emblema del Carnevali Pensiero. Basta entrare se subito attratti dallo splendido salotto. Qui il cliente può scegliere tra gli intramontabili mobili in ciliegio lucido opaco o gli interni in rovere sbiancato, che conferiscono un'eleganza classica e moderna allo stesso tempo. Tutto è pensato per il massimo comfort e relax, come dimostra l'ampia cucina attrezzata per i desideri di veri gourmands. Sotto coperta dominano le tre suite, con bagno privato separato e box doccia. La suite dell'armatore con letto matrimoniale e le due camere per gli ospiti con letti gemelli, trasformabili in matrimoniali. Offrono ben sei posti letto, che possono diventare otto con il divano letto nella dinette. A Poppa, la cabina del marinaio ha un ingresso indipendente e servizi separati per la massima privacy. A bordo del Carnevali 160, le finiture di pregio e mobili realizzati da mastri artigiani si affiancano alla migliore tecnologia esistente, capace di strutturare i principi della demotica per la massima tranquillità di navigazione. Il Carnevali 160 nasce all'insegna dei grandi spazi, come dimostra il bellissimo Fly, un vero salotto vista cielo, che può ospitare otto persone con un confortevole prendisole per due o tre persone. Da sempre per Carnevali il mare va vissuto en plein air, per questo l'abitabilità è totale dal pozzetto alla plancetta di Poppa. I dati parlano chiaro, il nuovo Carnevali 160 non è solo bello, veloce, distintivo, è un gioiello da futuro radioso. Carnevali C160, un nuovo lusso solca il mare.